Anno consecutivo a Gela si terrà a Corri con Papà Latale, una bella manifestazione ideata e promossa dalla Green Sport e promotion di Giuseppe Veletti. Quest'anno, l'8 dicembre, giorno della festa dell'Immacolata Concezione. Si ripete puntualmente ogni anno alla vigilia delle festività natalizie a Gela nel centro storico, una festa per i bimbi ma anche per i genitori, per riappropriarsi del centro storico. Soprattutto per abbinare quella che è un'edizione sportiva che viene svolta anche nel nord con la Santa Claus o comunque nelle montagne con tutti i vestiti di Babbo Natale in piazza o comunque in mezzo alle montagne sulla neve. Qui lo facciamo nel nostro centro storico. Tutti i bambini anche di 3-4 anni correranno con i loro genitori in piazza vestiti quasi da Babbo Natale. Una maglietta rossa, un cappellino rosso, tanti regali, tante sorprese, coriandoli, caramelle e poi soprattutto tutto lo staff vestito da Babbo Natale. Il vostro obiettivo è quello di valorizzare il territorio e abbinare dunque, se vogliamo, beni culturali, sport e turismo. Hai detto bene, hai detto bene perché comunque sono quattro eventi che la Green Sport Promotion organizza durante l'anno cercando di valorizzare quelli che sono i nostri territori, i nostri parchi e i nostri siti archeologici. Per cui Mura Timoleontè, Parco di Montelungo, Centro Storico. L'obiettivo sarebbe anche il Lago Viviere, solo che per un problema logistico facciamo fatica. Però comunque l'obiettivo è questo, valorizzare il territorio e soprattutto incrementare quella che è una cultura sportiva, una cultura in cui si vede il cittadino attivo, soprattutto anche nelle festività, nel sabato o domenica, che decide di portare il figlio, di trascorrere anche lui liberamente a contatto con la natura. Abbiamo una bella spiaggia, un bel parco di Montelungo abbandonato, o comunque semi abbandonato, che potrebbe essere offruito quotidianamente. Il binomio sicuramente è quello sport, salute, ma anche cultura. Ricordiamo dunque l'appuntamento allo start. Allora, allo start alle ore 10 in Piazza Umberto I, 8 dicembre 2016.